La ConfCommercio di Bari ha dovuto sospendere una campagna promozionale, sentiamo perché. Certo, c'è ancora qualcuno che non ha capito bene cosa sta succedendo. Pensa che festeggiare in strada ballando, bevendo birra sia una specie di rito di esorcismo del virus, ma posso comunicare che non è così. I manifesti stradali sono stati oscurati o tolti del tutto la campagna sui social, cancellata da sabato scorso. ConfCommercio Bari fa un passo indietro sulla campagna di comunicazione avviata all'inizio della scorsa settimana per invitare i pugliesi a continuare a vivere nonostante il coronavirus. Un invito rivolto parlando di birra ghiacciata e focaccia bollente. Siamo un popolo che addenta la focaccia a un milione di gradi. Chi ci deve fare paura? Era scritto, frasi che hanno suscitato non poche polemiche. Bere la birra e ballare non servirà a nulla, anzi, se si avvicinano troppo, si sbagliano nel bere la bottiglia di un altro componente, rischiano di infettarsi stupidamente. Quindi purtroppo il nostro unico modo per contrastare allo Stato il virus e consentire ai nostri ospedali di reggere l'ondata è quello di rimanere in casa il più possibile. Grazie a tutti.